Riprendere il dialogo con il territorio, con i lavoratori, cercare di aumentare le tutele e le iniziative per contribuire attivamente a trovare soluzioni per affrontare la crisi che attanaia imprese e lavoratori. Questo l'obiettivo della CISL Irpine a Sannio, che questa mattina ha incontrato la stampa per tirare le somme per quanto riguarda avvertenze e situazioni di criticità nel Sannio. Un momento difficile per l'economia, acuito ancora di più a causa del rincaro dell'energia, ha rimarcato il segretario generale CISL Irpine a Sannio. Automaticamente c'è stato anche un aumento del 30% per quanto riguarda le materie prime. Tutto questo comporta quel danno economico e drammatico, sociale, soprattutto per la famiglia, perché è vero che questi costi sono in capo alle imprese, ma automaticamente a ripercussione decade anche sulla collettività. Ore di cassa integrazione aumentate vertiginosamente già per la pandemia. Intanto nel Sannio aumenta del 20% la disoccupazione. Stiamo riscontrando che già nell'anno 2020 e 2021 la cassa integrazione è aumentata vertiginosamente, tenendo presente che nell'anno 2020 c'è stato il blocco dei licenziamenti. Ci auspichiamo quando prima che finisce questa maledetta guerra che non giova a nessuno. Il governo deve mettere delle politiche attive in campo.